ben ritrovati da telepace in studio con noi oggi c'è roberto zampieri benvenuto grazie istruttore cinofilo fondatore di progetto serena onlus c'è akira il suo compagno di viaggio e adesso capiamo perché roberto è qui oggi perché parliamo di un progetto molto interessante nato quanti anni fa allora progetto serena come cani all'arta nel diabete nasce circa 12 anni fa mentre l'associazione nasce nel 2014 perché i primi due anni operavamo con la protezione civile durante lo studio del progetto e nel 2014 invece stato pensato di formare o di fondare un'associazione e oltretutto abbiamo iniziato come onlus in effetti oggi progetto serena onlus è il marchio registrato anche se siamo una ps perché con la modifica del terzo settore purtroppo le onlus non sono più previste per cui ecco rimane il progetto serena onlus e nasce perché una persona con diabete anna che tu hai avuto l'onore di conoscere ed intervistare intervistare tanti anni fa mi aveva contattato per vedere se era possibile mettere in piedi un progetto che all'estero già erano diciamo erano operativi cani in realtà nel diabete mentre in italia non c'era ancora niente avete capito bene cane allerta di abete allora come funziona questa cosa innanzitutto è un binomio perché abbiamo l'animale con a fianco l'uomo la donna che accompagnerà con cui vivrà esatto e in effetti noi grazie comunque al professore bonora dell'università di verona e primario di diabetologia e endocrinologia abbiamo studiato un protocollo diciamo unico nel suo genere perché perché all'estero preparavano i cani finita la preparazione venivano consegnati invece noi abbiamo modificato questo lavoro proprio la preparazione viene fatta con il cane della persona con diabete se la persona con diabete non ha i cani insieme come è successo per anna si fa o adotta un cane o chi vuole un cane di razza lo acquista perché non ci sono problemi metice o razza ogni cane va bene e si lavora per due anni insieme per due anni l'istruttore va a casa della persona con diabete in quanto l'allerta diabete al di là di un diciamo una motivazione tecnica che porta il cane a segnalare ha successo grazie alla relazione grazie quello che è lo scambio relazionale tra essere umano cane alla conoscenza che si instaura anche perché io faccio qualcosa per te tu fai qualcosa per me noi diamo ai cani l'amore possibile chiamiamolo l'amore comunque diciamo un tipo di amore che si dà un animale e cane lo ricambia e molto volentieri perché se non è già a livello psicologico intanto abbiamo sicuramente un beneficio in questa relazione il primo risultato infatti che è stato studiato adesso in corso ancora la ricerca scientifica con l'università come ho detto prima di verona il primo risultato proprio a livello psicologico ovviamente è un progetto che parla di persone che amano gli animali attenzione a questo l'animale non si va a sostituire a la tecnologia alla medicina non è un surrogato di questo è un supporto per chi ama gli animali se no diventa una costrizione inutile un peso e una difficile gestione magari assolutamente invece se uno ama gli animali ne trae un beneficio notevole anche perché questi animali come Akira sanno riconoscere il momento cioè anzi il momento prima di una possibile crisi ipo o iperglicemica ecco diciamo che la riconosce nell'immediato quando questa avviene perché il corpo umano ogni patologia ogni problematica nel corpo umano diciamo porta delle modificazioni chimiche nel caso di una variazione glicemica il corpo umano emette delle molecole si chiamano voc è un volatiloma che c'è tutto intorno al corpo che viene emesso il cane viene preparato a riconoscere questo particolare volatiloma per cui quando lo sente grazie alla relazione ad aver capito che il proprio essere umano quando ha questo problema c'è qualcosa che non va il cane segnala lo avvisa abbaglia abbaglia può dare la zampata ci sono vari modi di segnalare diciamo che noi cerchiamo di fare in modo che siccome ogni variazione glicemica è una storia a sé perché ci può essere una variazione leggera una variazione pesante ci può essere una variazione grave per esempio una caduta di glicemia violenta che porta la persona a star male per cui a seconda di come è il proprio essere umano il cane avvisa nel caso che l'essere umano o svenga o stia dormendo o non si riesca come successo purtroppo in alcuni casi non riesca a reagire il cane va a chiamare aiuto per cui si costruisce tutto un percorso dove è il cane stesso che decide cosa fare e come fare sembra quasi fantascienza però ormai sono quasi 200 cani in tutta italia e questo e questo è più che provato diciamo il cane decide come comportarsi a seconda di come reagisce l'essere umano e non è dicevi prima sostitutivo della tecnologia che nel frattempo ha fatto tanti passi avanti stiamo parlando in particolare del diabete di tipo 1 o insulino dipendente comunque ok la cosa bella è vedere che tu hai pensato quando vorrà scendere lo facciamo scendere perché la sedia è un po' piccolina e dopo ci racconti perché dovete sapere che Akira ha fatto varie esperienze ma dopo vediamo veramente la possibilità che hanno questi cani di aiutare in tanti campi diversi sempre anche in ambito sanitario il fatto che siano state preparate in tutta italia cani per aiutare i loro padroni veramente una cosa bellissima questa cioè sono esperienze che dilagano sì quando io ho iniziato quello che è stato diciamo quella che è stata la mia idea era di poter unire un qualcosa di utile per l'essere umano ma soprattutto che portasse del bene agli animali abbiamo avuto diciamo abbiamo quasi un 60 per cento di cani adottati dai canili e questo è molto bello per cui tra l'altro in canili ci sono tantissimi cani che aspettano di essere adottati e quindi lanciamo anche questo questo appello e poi il fatto che il cane sia a fianco dell'uomo veramente il cambia la vita cambia la vita e pensiamo che io parlavo prima bisogna amare gli animali perché perché l'animale comunque ha delle necessità necessità che fanno bene all'essere umano pensiamo una persona con diabete che comunque deve muoversi deve doversi occupare dell'animale è anche occasione di movimento le passeggiate le passeggiate andando fuori almeno due tutto il giorno appena si può si esce con il cane si porta il cane a divertirsi è un'occasione di relazione anche esatto esatto diciamo che come parlavamo di un discorso a livello psicologico c'è un discorso a livello fisico ma c'è anche un fattore importante a livello medico perché affiancato alla tecnologia e la persona con diabete si sente comunque molto più sicura molto più tranquilla mi addormento non sento l'allarme che suona ci pensa il cane a svegliarmi noi abbiamo l'esempio di Quincy che la propria assistita non aveva sentito sensore i genitori stavano dormendo e il cane ha cominciato a tirare la manica alla mamma finché si è svegliata è nata dalla ragazza ma non più tardi sono veramente salvavita esatto perché non aveva sentito l'allarme due mesi fa serena pellegrini che ha una ragazza ligure è stata salvata dai cani sono usciti parecchi articoli anche sul giornale perché lei purtroppo non era in grado di reagire e vivendo da sola cosa che poi abbiamo risolto anche con un presidio ulteriore in caso di persone che vivono da sole finché non si è svegliata il cane ha continuato ha continuato ad insistere finché lei è riuscita a correggersi perché diciamo in abito diabete si parla di correzione c'è a prendere quegli zuccheri e quei prodotti che il diabetico che la persona con diabete deve assumere e la rimette la stabilizza ma che begli occhi che hai vediamo mi dà la zampa se glielo vedo ma non mi conosce allora un'altra cosa interessante che ti chiedo anzi fondamentale perché progetto serena si chiama così allora progetto serena prende il nome da mia figlia che purtroppo è scomparsa nel 2009 e un arresto cardiaco e quando appunto abbiamo pensato di fare qualcosa in questo ambito è stato mio volere è stato mio volere mettere in atto qualcosa che fosse di scopo sociale perché questo è importante progetto serena non è un'associazione a scopo di lucro noi lavoriamo solo a rimborso spese c'è una persona per due anni segue una famiglia o un diabetico presso l'abitazione e ottiene il rimborso spese per cui ho voluto che almeno serena e fosse ricordata anche perché lei amava gli animali tantissimo lei ha sempre avuto cani noi abbiamo sempre avuto cani e quale miglior modo per ricordarla con un'opera di bene perché veramente fa bene a tante persone questo fa bene fa star bene e ha dato modo scendi pure a chi la chiedo scusa vediamo ormai non non osa più scendere dalla sedia ok ce la fai ecco bravissimo perché c'era il tavolo allora akira ha provato tante esperienze adesso passiamo a parlare di un altro ambito interessante che è quello invece dell'allerta covid e questo è stato una sfida veramente come hai pensato a questo anche lì c'è di mezzo mia figlia l'altra però la piccolina quella che adesso va per dieci anni allora diciamo che con i risultati di progetto serena abbiamo ricevuto a parte molti riconoscimenti e comunque complimenti ma proprio il fatto che noi ci appoggiamo alla ricerca scientifica ci ha fatto conoscere un ambito medico e soprattutto in ambito ricerca importante e all'inizio del covid mia figlia faceva la prima che ha perso in pratica a causa covid prima elementare prima elementare in causa covid ha perso i primi due anni completamente che non è bello l'elementare ma il problema grosso era che ogni volta che ci si doveva muovere o anche quelle poche volte che è riuscita ad andare a scuola doveva fare un tampone io vengo dalla prezione civile ho fatto tanti anni io sono 37 anni che sono in cinofilia e lavoravo sulla ricerca macerie e superficie per cui vedendo mia figlia in difficoltà a fare il tampone e avendo letto che all'estero stavano cercando di capire stavano studiando appunto la possibile segnalazione di un infetto al covid attraverso l'annuso dei presidi tipo la mascherina eccetera eccetera io ho pensato visto il risultato di un cane da ricerca se non fosse possibile andare direttamente ad annusare la persona e questa cosa è stata proposta alla Politecnica delle Marche alla Sardegna al Dipartimento di Prevenzione Sardegna e hanno voluto veramente prenderla in mano da qui ho scritto un protocollo è partita una ricerca e noi abbiamo fatto quasi 6.000 screening su 6.000 persone che sono offerte volontarie fino a che siamo arrivati alla validazione del progetto con il risultato del 99 per cento è tantissimo 99 per cento perché un metodo tra l'altro non invasivo e però immagino che richieda un una formazione un addestramento particolare diciamo che il protocollo io ho scritto il protocollo all'alta diabete l'ho scritto in modo diciamo in un sistema modulare che quello che si adatta quello che è stato riconosciuto anche a livello scientifico ed è stato pubblicato proprio questo riguardo a questo protocollo cosa vuol dire che tutta la preparazione viene modulata a seconda di quello che si deve fare può essere un caregiver a quattro zampe perché il nostro nuovo logo è il caregiver a quattro zampe che è il cane che aiuta persone con la SLA persone con la cerebro ad olipofusinosi oppure può essere un cane screening covid altri progetti che sono per tumore al seno mesotelioma tutti i progetti scientifici che stiamo portando avanti però ecco il vantaggio di questo protocollo è proprio la sua modularità avendo preso questo protocollo e modulato direttamente sulla persona ovviamente ottenendo campioni c'è stato tutto uno studio anche perché è importante sì andare a capire ma anche proteggere il cinofilo e i cani che si mette all'opera è uno studio che è durato due anni diciamo che la cosa importante per noi è stata vederne poi risultati perché io ti faccio un esempio l'ultimo screening che abbiamo fatto sono tre case di riposo 180 persone anziane che dovevano tutte fare il tampone ne sono stati fatti quattro alle persone incerte diciamo alle persone segnalate dal cane alle persone segnalate dal cane le altre 176 sono state dichiarate negative e per cui non è stato fatto il tampone attenzione però tutto il lavoro che è stato fatto in questi due anni ha portato a far sì che il cane allora qui in casa di riposo no ma fino a quel giorno lì dove il cane segnalava veniva fatto tampone molecolare dove non segnalava veniva fatto tampone molecolare e risultava negativo per cui c'è stato un riscontro eh sì c'è stato un riscontro come ho detto del 99% dei risultati corretti e io ti assicuro che quei 176 anziani si sono divertiti un mondo perché poi figurati tra fare il tampone e avere un cane che ti annusa ma poi finito lo screening ci sono tutta una serie di giochi con i cani immagino per cui abbiamo fatto passare anche una bella giornata torniamo al risvolto psicologico evito il tampone che comunque quando si parla di salute niente troppo invasivo perché attenzione se c'è da fare il tampone però ti dicevo vedendo mia figlia in difficoltà non voleva più fare il tampone ho pensato appunto se un cane usando una persona poteva arrivarci ci siamo arrivati e abbiamo visto questo che poi alla fine oltre ad aver evitato il tampone risvolto psicologico nel divertimento di stare lì col cane tanto che il nostro volontario Fabrizio aveva due cagnoline metice che erano anche preparate a fare giochi con le palline eccetera eccetera le persone ospiti si sono divertite un sacco è stata una giornata di festa alla fine quello che mi colpisce è che tutti i progetti che fai io ti do del tu perché ci conosciamo a tanto tempo e tutti i progetti che fai sono tutti certificati cioè tu chiedi proprio che ci sia un'università un ente che verifichi in modo scientifico lo studio che se no sarebbe una cosa esperienziale ma senza un reale valore effettivo questo è il problema che io ho riscontrato diciamo in ambito cinotecnico molti preparano cani per questo per quello ma fondamentalmente la ricerca scientifica è quella che può dire funzioniamo non funzioniamo noi stiamo lavorando su mesotelioma che è il tumore dei polmoni causato dall'amianto con la hall di Alessandria e con l'ospedale mesotelioma di Alessandria c'è una ricerca perché per noi ogni progetto deve avere un comitato etico approvato il comitato etico poi ci dà le direttive noi facciamo il lavoro poi il comitato etico darà le risposte autoreferenziarsi per carità tutto può andare bene non è sufficiente stiamo partendo con un progetto sul tumore al seno per chi ha la modificazione al gene purtroppo pensiamo molti conoscono Angelina Jolie lei si è operata i seni perché ha questo problema per cui con l'università di Sassari si sta scrivendo tutto il progetto diciamo l'ospedale universitario di Sassari con un reparto proprio legato al tumore al seno il progetto si chiama SMAC e stiamo lavorando per portare questo dov'è che può essere importante il cane? persone che hanno questo problema ma questo può tornare utile anche a tutte le donne perché torniamo al discorso tampone non c'è un esame troppo invasivo quando si parla di salute però per esempio la mammografia non si può fare sono raggi, ci viene sottoposte radiazioni per cui le persone che hanno questa modificazione genetica e sono portate ad avere questi tumori maligni le devono fare una volta all'anno se ne parlava con i medici che però purtroppo magari la fa oggi fra tre mesi il tumore parte questo come ribadivi tu non sostituisce l'importanza dell'esame però tra una mammografia e l'altra portando il cane a segnalare questa possibile problematica possono farle anche tutti i mesi non c'è nessun problema di radiazioni non c'è nessun problema anche di fastidio, di dolore il cane lo possono fare tutti i mesi abbiamo quello che è diciamo il nostro segreto che non possiamo svelare è che abbiamo studiato un sistema per cui le persone non vengono sottoposte a problematiche spostamenti, movimenti si creeranno delle varie strutture dove ci sarà la possibilità per la persona che deve fare andare in farmacia prendere a costo di 5 euro un polimero particolare farà in un modo particolare la raccolta del campione lo consegnerà, verrà letto dal cane se il cane darà anche un dubbio la persona dovrà approfondire ovviamente questa è una ricerca e lo stesso vale con il mesotelioma purtroppo l'amianto sembra un problema scomparso ma ci sono zone dove purtroppo sono ancora sommersi dall'amianto i territori stessi sono sommersi dall'amianto e ancora oggi è un tumore che purtroppo ogni giorno riceve una diagnosi ed è un tumore nefasto perché purtroppo è e quindi state andando avanti anche su questo sì, noi ormai siamo quasi un centinaio di strutture in tutta Italia e siamo divisi in gruppi di ricerca c'è chi si occupa del covid chi si occupa del mesotelioma chi si occupa del tumore al seno li state specializzando in vari... sì, diciamo li abbiamo divisi e in più sta partendo un nuovo progetto sempre con la regione Sardegna che per noi è stato... vi sta molto supportando sì, la regione Sardegna ci ha veramente preso sotto... ci ha preso a cuore ci ha portato avanti in tutte le ricerche ci ha dato soddisfazioni enormi ecco, allora dicevamo dell'importanza di questo caregiver perché va poi, come per la SLA si diceva a supportare alcune faccende quotidiane anche della vita familiare esatto torniamo sempre al miglioramento psicologico anche in questo caso c'è un miglioramento psicologico a livello familiare adesso pensiamo a Pietro il bambino che ha la cereodolipofuscinosi neuronale cioè il batten il morbo di batten e il cane avvisa la mamma quando il pannolino è pieno purtroppo il bambino oramai è costretto a letto è cieco il primo problema legato a questa patologia è la cecità ma poi gli altri che si bloccano purtroppo questa patologia porta a sì che il familiare sia legato ad ogni piccolo movimento del bambino per cui quando il professor Nicola Specchio del bambino Gesù di Roma ha voluto partire con questa ricerca scientifica perché anche qui il comitato etico di ricerca scientifica è in corso e tutto quello che si ottiene viene scritto cosa abbiamo pensato? abbiamo pensato alle cose semplici che possono migliorare la vita Antonella è una mamma deve fare anche quello che deve fare la mamma è una donna in casa perché lei doveva seguire il bambino e ne ha da fare ma non può stare lì 24 ore su 24 ore esatto per cui il cane avvisa quando il pannolino del bambino è pieno mentre prima ogni volta doveva andare a vedere capire, fare lei sa adesso che quando il pannolino di Pietro purtroppo è da cambiare il cane l'avvisa ma poi il cane ha fatto tante piccole cose ma abbiamo ottenuto che il bambino rimuovesse la testa perché adesso spiegare a livello scientifico la patologia non è semplice abbiamo capito che è rara ed è molto grave l'arara è una patologia dove tu non perdi la tua mobilità la dimentichi c'è queste lipofuscine non c'è più la capacità esatto proprio dimentica le cellule dimenticano che posso muovere il braccio però possiamo regredire un po' migliorare la cosa e grazie al cane ai mordicchi sui piedi Pietro ha ricominciato a muovere i piedi grazie a un campanellino il campanellino da gatto messo al collo di chop Pietro ha cominciato a cercare con la testa il cane mentre prima non la muoveva più quindi diventa una relazione fondamentale per lui esatto oltre all'aiuto che dà alla mamma perché se la mamma si allontana sa che siccome Pietro può svenire ha delle crisi epilettiche il cane è stato preparato a segnalare e chiamare per cui quando questo succede se la mamma in quel momento non è presente il cane va a chiamare senti Akira fatti vedere che stiamo per chiudere Akira è stato in tante circostanze impegnato cosa ha provato Akira? Akira ci ha aiutato nella sperimentazione del primo protocollo e diciamo sul diabete sul diabete diciamo la seconda parte del primo protocollo poi Akira ha lavorato sul covid con Akira abbiamo studiato alcuni movimenti legati appunto alla ciroidone lipofuscinosi e Akira ha lavorato anche su un discorso relazionale con i bambini per cercare anche di far star meglio gli anziani eccetera e adesso stiamo lavorando anche un altro progetto sul modo di Parkinson sempre con la Sardegna fantastico ti chiedo un'ultima cosa quello che sto vedendo a livello sociale ci sono tantissimi cagnolini anche in giro per la città stupendi io quando posso mi fermo e li accarezzo però a volte mi sembra che si vogliano un po' umanizzare cosa pensi di questo? è che è un problema dei nostri tempi che è un problema dei nostri tempi qui ormai questi cani che vivono in famiglia ormai sono dei cittadini diciamo che spesso volentieri sento dire cani liberi nei boschi purtroppo loro non sono nemmeno più in grado di fare la vita non parliamo dei cani randaggi eccetera ma i cani che vivono in famiglia sono dei cittadini secondo me il vero errore nell'umanizzarli mi perdono ma perdonatemi ma io non voglio andare contro nessuno però mettere il vestitino mettere il capuce ecco quello il costume di carnevale ecco Babbo Natale secondo me per loro non è una cosa normale è bello che siano buoni cittadini che siano curati per verità sappiamo camminare in città socializzazione primaria e secondaria con gli animali e con le altre persone che si possa vivere serenamente quello che forse stona un po' è questo bambino mio amore mio ecco però fa parte comunque di è giusto che ogni persona viva la cosa come preferisce poi ci sta a mettere anche noi siamo andati a trovare i bambini all'ospedale in pediatria a Legnago abbiamo messo il cappuccio di Natale ma questo è il momento però ecco trovare la necessità di mettere gli occhiali ai cani eccetera eccetera no anche loro hanno la loro identità esatto e va mantenuta per il loro bene io penso noi dovremmo fare cose che piacciono a loro i cani hanno bisogno di esplorare hanno bisogno di giocare come i bambini ma hanno bisogno di andare a ricercare le cose stare in società ma divertirsi non hanno bisogno di essere adesso lui è qui ma loro non hanno bisogno di essere in pizzeria di andare qua loro hanno bisogno di muoversi molto bene Roberto grazie per quello che ci hai portato qua per tutta la vostra attività bellissima che io spero che vada avanti hai scritto anche lo faccio vedere un cuore con la coda eroi a quattro zampe nell'allerta diabete e Serena Zampieri Serena Caredu tua figlia che non c'è più un'altra Serena che ha aiutato a completare questo libro questo è un racconto che aveva iniziato mia figlia Serena prima di mancare e per anni è stato nel cassetto poi ho conosciuto Serena Caredu una scrittrice sarda che ha un tipo di scrittura molto simile ed è nato questo libro glielo ho fatto leggere e da lì è nata la conclusione basterebbe una parola grazie Roberto Zampieri per essere stato con noi e a tutti voi che ci avete seguiti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti